Arrotolate la traversa quanto più vicino al corpo del paziente e toglietegli il lenzuolo. La traversa serve a ridurre l'attrito tra il paziente e il letto, in modo che ci sia bisogno di una minore quantità di energia per spostare il paziente. Mentre fate scivolare il paziente verso di voi, spostate il peso del vostro corpo dal piede più vicino al letto sull'altro piede, un piede avanti e un piede indietro. Un simile trasferimento del peso aiuta a sopportare lo sforzo e a ottenere un movimento fluido. Ponete una mano sulla spalla del paziente e l'altra sul bacino. Questo sostiene le parti più pesanti del corpo del paziente e permette di avere un maggior controllo mentre lo si fa girare. Adesso girate il paziente verso di voi, spostando il peso del vostro corpo dal piede antistante su quello retrostante. Per evitare fratture del paziente, non riposizionatelo direttamente sul femore o sulla spalla sottostante. Si può ridurre il rischio di fratture spostando leggermente in avanti l'anca e la spalla sottostanti del paziente. Posizionate i cuscini in modo da far stare comodo il paziente. Un cuscino sotto il braccio superiore consente al paziente di mantenere l'allineamento con l'altro braccio. Disponete dei cuscini tra le gambe del paziente, dalla parte superiore delle cosce fino ai piedi. Disponete dei cuscini dietro la schiena e le natiche del paziente in modo che vi si possa appoggiare. Disponete dei cuscini dietro la schiena e le natiche del paziente in modo che vi si possa appoggiare.